Voi accusate il PD di essere dei Bari e il PD accusa voi di fare solo del calcolo politico? E i cittadini si sono già annoiati perché il tema della legge elettorale, se chiedete a chiunque qui fuori, anche tra i consulenti del lavoro, ma tra i cittadini in generale, nessuno vi dice che sia un tema prioritario. Detto questo, il discorso è che loro vogliono modificare l'Italicum per salvarsi le poltrone nelle prossime elezioni politiche. Se questo è l'obiettivo e bisogna impegnare il Parlamento che costa 100.000 euro all'ora solo alla Camera dei Deputati per fare questa cosa, noi non ci stiamo. Noi una proposta di legge ce l'abbiamo, si chiama Democratellum, l'abbiamo votata con 200 universitari sulla nostra piattaforma anni fa, quella è la nostra idea di legge elettorale. Queste operazioni di machillaggio dell'Italicum servono esclusivamente perché questi signori hanno paura del Movimento 5 Stelle. Ma voglio dirgli una cosa, non sarà la legge elettorale a far vincere il Movimento 5 Stelle, ma il loro pessimo modo di governare, soprattutto del Partito Democratico, è l'incapacità di dare una risposta ai problemi degli italiani. Questi fino a qualche settimana fa hanno parlato di Olimpiadi e referendum, hanno preso una batosta alle comunali e adesso parlano di legge elettorale. Continuino così, ma poi non si lamentino del fatto che il Movimento 5 Stelle è una forza politica apprezzata dai cittadini italiani. Siamo gli unici che parlano nei temi concreti. Voi avete detto che siete pronti a governare.